Nono episodio di In Risposta a Scombo, il podcast italiano più magico sulle magic. Buongiorno Simone, come stai? Sì, più magico nel senso che proprio noi bariamo, c'è trucchi di magia tipo, capito, pesco due e tu non lo vedi e... Guarda la matita che si inclina. Tra l'altro secondo me lo zio le sa fare queste cose, io no, ma lui proprio lo vedo manipolatore. Proprio? In realtà no, guarda, quando si tratta di manualità, già tanto se riesco a mischiare il mazzo Commander. Beh ma quello è già tanto per tutti, anzi io teorizzo che un giorno ci sarà qualcuno che diventerà ricco facendo un mischiatore di mazzi per Commander, che è veramente un'invenzione che manca al genere umano, così come un mischiatore di calzini spaiati e queste altre cose che insomma... Possiamo brevettarlo, possiamo brevettarlo. Non si riescono a inventare, è una cosa tremenda però è così, o il raccogli cacca del cane fuori, che devi sempre raccoglierla con le mani. Eh beh, quello... Sono quelle cose che l'umanità ancora non ha posto rimedio, siamo andati con delle sonde su Marte, riusciamo a far guidare le macchine a sole, ma questi tre problemi fondamentali... Fondamentale è quello di Commander. Quello però, secondo me, ripeto, quello che farà più soldi è il mischiatore di mazzi di Commander. Quindi fra la nostra utenza, se qualcuno lo tira fuori, pubblicizzeremo quest'idea. Da youtuber, tu tra l'altro, non io, a imprenditori in un click, lo sento? Ah, sicuro, sicuro, sicuro. Ma a proposito di YouTube, cosa trovate qua in descrizione al video? Anche i canali di Simone, perché Simone io lo ringrazio sempre tantissimo per essere entrato a far parte di questo progetto, e quindi mi raccomando, seguite Simone, non solo su YouTube, ma su tutti i suoi canali social. Io ringrazio te, ma non facciamo tutto questo, perché sennò poi troppo picciu picciu, amori amori, e niente, ci dimentichiamo la puntata di oggi, che comunque, magari non è densa come quella delle altre volte, non c'è tanto da parlare, ma è importante. Ci sono delle riflessioni importanti che dobbiamo fare. È vero, è una puntata light, cioè meno... non ci potrete flammare qua, perché riportiamo solo e facciamo considerazioni, quindi... Diamo opinioni. Bene, qual è la puntata? Cioè, qual è il tema della puntata? Allora, è uscito uno state of the game su Magic Arena, quindi oggi parleremo di... tendenzialmente di Magic Arena. Partiamo dall'argomento numero uno, cioè che il client di Magic Arena arriva in 64 bit, cosa che io, sinceramente, non sono particolarmente ferrato sull'informatica, ma, da quello che dicono, è il passaggio necessario per riuscire a portare Magic Arena finalmente su Mac. Anzi, speriamo che qualcuno di voi nei commenti ci dica, allora, 64 bit per questo, 32 bit per quell'altro, le differenze, dove ci guadagna e dove no. Noi, la cosa che abbiamo capito, appunto, è che... È una grande richiesta, perché, ragazzi... Grandissima richiesta. ...dimenticarsi di una fetta di utenza, comunque sia gigantesca, all'interno di, voglio dire, di tutto il mondo, per quanto riguarda i computer, e, ragazzi, bisogna assolutamente ricordarsi, appunto, che ci sono tantissimi utenti Mac, ma tantissimi, eh. Assolutamente. L'altra cosa che mi dicevano, me ne parlava un mod che ne capisce un po', è che, passando a 64 bit, forse dovrebbero, in generale, migliorare le prestazioni del software, perché, diciamocelo, Magic Arena ha spesso problemi, proprio bug, piccoli bug, non è proprio totalmente ottimizzato, quindi speriamo che questa cosa non solo ci porti su Magic, sul Mac, ma anche che è migliori di base il software. No, questo... Allora, io non sono, però, un grandissimo esperto, sicuramente più di mobile, perché ci ho lavorato, sono riuscito a, appunto, a lavorare in quel mondo per tre anni, e, per quanto riguarda i computer e il gaming su PC, no, di certo quello che a me viene in mente è che Magic Arena è molto bello, già adesso non so quale ottimizzazione si può fare, quello che penso è che, insomma, lo sapete, io gioco su MTGO, magari... Ma tu hai la prospettiva da MTGO per questo... Ottimizzare un pochino MTGO, un pochettino... Un pelo. Insomma, Arena, voglio dire, funziona, dai. Sì, ha tanti bug. Cioè, se lo giochi tanto, te ne accorgi, tipo, a me regolarmente si bugga l'audio, quando c'è, ad esempio, una carta che con Adventure mi si bugga l'audio, ci sono una serie di piccole problematiche. Sono cavolate, però, come dire, vai in un settore dove c'è una giga competizione. Devi essere perfetto. No, questo lo siamo d'accordo. Comunque, ripeto, per quanto riguarda l'impatto sicuramente più visibile del 64-bit, di quello che hanno detto sullo State of the Game, è non lasciare quella... Io credo che a livello mondiale Apple abbia comunque, insomma, dagli anni 80, dove aveva un 10-12% di utenza, quindi veramente era trascurabile, sia salito moltissimo grazie al restyling degli iMac, grazie ai MacBook Pro, perché sono stati prodotti che veramente hanno avuto un impatto sul mercato dei PC consumer incredibile, nonostante il loro costo, e adesso si è salita tantissimo come share, appunto, delle macchine da lavoro. Tantissimi mi chiedono, voglio giocare Magic Arena su Mac, e quindi questa è una cosa che dovevano fare assolutamente, meno male che viene. Sì, diciamo ancora una cosa sul Mac. Loro, tempo fa, avevano annunciato che Magic Arena sarebbe arrivato su Mac con l'arrivo di Arena sul store Epic, quindi avevano detto dicembre scorso. Poi evidentemente ci sono state delle problematiche, perché forse il 32-bit non lo reggeva, questo non so dirvelo, però comunque era già una priorità da tempo il Mac. Sì, sì, no, ma infatti è no. Ripeto, uno dice, io gioco a Magic Arena, dove lo giochi? Lo gioco su PC. Poi ogni volta uno parla di questo PC, che significa personal computer, come le macchine Windows. Non è così. Personal computer è anche la macchina Linux, quindi è corretto che Magic Arena sia giocabile su tutti i sistemi operativi, forse anche su Linux appunto, nonostante ecco lì lo share di quante persone usano Linux giornalmente sia sicuramente molto... Più basso. Senza dire, questo non è dissing, vi vogliamo bene. Perché ci sono anche tanti utenti che mi dicono ma lo posso giocare su Linux? Eh, non lo so. No, penso che dovrete aspettare molto. Ma invece la notizia è che nel 2020 lo potremo giocare non solo sul PC, giusto? Non solo sul PC, anche sul mobile. Ora, questa notizia già la conoscevamo perché era arrivata da Hasbro, non direttamente dallo staff di Magic Arena, ma da Hasbro, neanche Wizard, quindi proprio casa madre, mamma Hasbro. la sapevamo, era nell'aria, però con lo state of the game di questo mese hanno scritto, proprio gli sviluppatori di Arena, che arriverà Magic Arena mobile entro il 2020. Esatto. E nel video dello state of the game parlavano del fatto che hanno già iniziato, come dirà, vederlo in azione. Che è una cosa importante. Ora, io non so te, ma non ci credevo. Cioè, non me l'aspettavo, perché pensare di giocare a Magic, mobile, cioè, se penso a quanti permanenti ci stanno su una board, come cacchio la gestisci? Detto questo, poi ti lascio la parola, in tanti che mi seguono giocano comunque mobile grazie a Steam. Cioè, in tanti mi hanno detto, fidati zio che è giocabilissimo, perché noi lo giochiamo tramite Steam. Guarda, è quello che ti stavo per dire. Io lo gioco tramite remote desktop. Ok, anche tu sei uno di quelli che... Esatto, perché... Vabbè, ragazzi, un padre ha comunque spesso molte cose da fare, se lascio una partita e non voglio perderla, prendo il telefono, vado giù e intanto continuo a giocare. E devo essere molto sincero. Sì, ok, è un disagio magari pinciare per andare ad allargare la board quando ci sono tante carte, devi prendere una carta singola tra mille, cioè... Ma si fa! Ma si fa! Che bella! Cioè, se lo facessero esattamente come io lo gioco su Chrome desktop, cioè, praticamente, un mirror del tuo PC dove tu poi puoi andare, appunto, c'è questa parte che mi interessa, non credo lo faranno così, lo faranno ancora più user friendly, ancora più mobile friendly, quindi con i comandi touch sicuramente ci sarà magari un doppio tap per fare determinate cose che non c'è adesso su questa modalità che io utilizzo e che poi magari utilizzano anche, appunto, le persone che ti hanno scritto, ma veramente si può fare e è troppo importante per Magic andare su mobile. Troppo importante. Allora, ragazzi, vi do qualche dato, perché uno, poi, quando parla di gaming con le persone, magari succede, ogni tanto, non voglio dire sempre, che la gente ignori totalmente lo stato del gaming odierno, perché il gaming negli ultimi cinque anni si è evoluto tantissimo, diciamo, negli ultimi, magari, sette, e è passato da io gioco a Crysis sulla mia Xbox e quello è gaming, o vabbè, GTA, diciamo, al limite da lì che c'era la guerra tra PC, quindi PC Master Race e poi la console war tra Xbox e PlayStation e chi parla di gaming non considera neanche il gaming su mobile, dice no, il gaming su mobile la fa schifo, cioè, nel senso, sono giocacci, ragazzini, giochi pieni di pubblicità, giochi bla bla bla, proprio non lo considerano, non si fa un'idea di quanto il gaming su mobile sia grande. In verità, sui 148 miliardi che nel 2019 più o meno ha raggiunto, questo è un forecast, quindi una stima, il mercato del gaming, perché comunque certi numeri sono secretati, non è che lo sanno perfettamente, pensate, 68 vengono dal mobile gaming che è salito del 10% anno su anno, ogni anno sale del 10%, su PC 35 miliardi, il console gaming vale 45, quindi il mobile gaming vale 23 miliardi di dollari in più rispetto al console gaming e è eccessivo dire che è quasi gaming e PC, scusate, console gaming e PC gaming messi insieme, perché 35 più 45 fa 80, giusto? No, 35 più 45 80, perfetto. E mobile è a 68, quindi, cioè, è una parte, non grande, è il gaming. Lo so, fa male, fa male ammettere che Candy Crush è il gioco più giocato al mondo, ed è il gioco più giocato al mondo. quando io sento giornalisti, quando leggo articoli dove si parla appunto Fortnite, il gioco rivoluzionario che è il gioco che ha fatturato di più al mondo, eccetera, è stato vero per l'anno in cui effettivamente Fortnite ha globalizzato il mercato del gaming, anche perché, e questo ragazzi che lo faccio notare molto molto bene, fortemente anche su mobile. È vero. Insomma, per chi mi ascolta non lo può vedere, su YouTube sì, faccio anche una faccia cattiva, nel senso, è per quello che Fortnite è diventato quello che è diventato anche, perché era accessibile a chiunque, perché, pensiamoci, la barriera all'ingresso per giocare a qualunque videogioco è un PC che sì, la gente ce l'ha per lavorare, sì, in generale comunque tu un PC a casa ma devi avere un PC di un certo tipo per giocare, o una console che costa 200, 250, 300, 400 euro a seconda di quando la compi, l'uscita, eccetera. Questo, e mi riferisco al telefonino, ce l'abbiamo in mano tutti. La gente spende più facilmente sul cellulare che sul computer. Non c'è barriera all'ingresso per il gaming su mobile ed è per questo che Candy Crush è il gioco più giocato del mondo. Dopo, appunto quell'anno è anche il gioco che fattura più del mondo. Ripeto, fa male ammetterlo, lo so ragazzi, sono con voi, empatizzo, però certe cose bisogna saperle e una società come Wizard of the Ghost è un gioco come Magic che non sia già dal 2018 quando è uscito su mobile è, per me, è una roba incredibile perché se poi si riesce a fare il mercato mobile è soprattutto cinese, ok? Cioè tutti questi soldi vengono soprattutto dalla Cina è per questo che noi non ce ne accorgiamo al di là del fatto che quando potevamo andare in metropolitana Sì lo vedevi quelli che giocavano a Candy Crash Io faccio propongo a tutti un sondaggio la prossima volta che speriamo presto andrete in metropolitana o sull'autobus guardate quelli che giocano al telefonino e fatevi il conto di quanti giocano a Candy Crash e di quanti giocano a un altro gioco che sia Hardcore come Clash Royale che sia Magic fatevi il conto o Hearthstone fatevi il conto perché a me capitava di andare a Milano per roba di studio e prendevo sempre la metropolitana ed era assurdo vedere quanti giocavano a Clash Royale ma c'è sembra che tu l'abbia citato così apposta ma ti giuro in metro a Milano se fai caso quelli che giocano giocano a Candy Crash ma anche giovani cioè la cosa assurda è anche giovani Ti ho detto non ci si rende noi che siamo gamer non ce ne rendiamo come me insomma magari che giochi solo a Magic ma Magic è gaming sì no a parte che adesso Magic è gaming ci mancherebbe no non voglio dire quello dicevo a parte che appunto Magic è gaming oggi due anni fa no però in generale chi è un gamer ha una conoscenza del medium molto più elevata sì 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 una conoscenza del medium che va al di là appunto di quattro caramelle che si incrociano e scoppiano ma che anche a livello culturale no entra nei tuoi discorsi con l'impatto di Bioshock sulle generazioni di console quanto è importante Red Dead Redemption caspita Death Stranding mi ha cambiato la vita e cose del genere è normale che tu non pensi minimamente che esista una roba così grande ok però quella è una roba così grande e andare su quel mercato lì è una cosa importantissima cioè è una miniera d'oro dicevo per quanto riguarda l'uscita in Cina se Wizard riuscirà poi a far uscire anche il gioco in Cina perché non è scontato i public lì è tutto controllato se per chi volesse saperne di più proprio cinque secondi di spiegazione tu devi avere un'azienda cinese per far uscire il tuo gioco in Cina quando questo non è vero in praticamente quasi tutti gli altri paesi del mondo se tu sviluppi se io e te sviluppiamo un'app che è un gioco e la vogliamo far uscire negli Stati Uniti dall'Italia oggi possiamo farlo cioè nel senso che rilasci l'app in tutti i paesi questo non è vero per la Cina dicevo una volta che arriva lì quelli sono veramente una possibilità economica gigantesca poi per carità è un mercato che ha le sue difficoltà non è che il Klondike che andiamo tutti con la come si chiama col piccone e torniamo con i cestini d'oro però qua cioè se sei bravo sì sì io ti dico una cosa su questa cosa del mercato cinese cioè un po' di mesi fa adesso non mi ricordo esattamente quando erano uscite delle art di carte magic già stampate riadattate per il mercato cinese forse ne avevano già parlato in risposta scuola sì sì ne avevamo parlato non mi ricordo in che mese meno violente meno violente senza le ossa che uscivano perché le ossa lì è un problema vabbè ma le carte in cinese ci sono io tra l'altro ho le mie quattro copie ma erano uscite per magic arena erano uscite per magic arena perché sicuramente il gioco su pc c'è è stato approvato dal governo quello che è e ripeto non andare a sfruttare la possibilità di far giocare poi tra l'altro stiamo parlando di un gioco multiplayer online che non ha bisogno di questa connessione no no capito è un gioco a turni Hearthstone che è il grande competitor di magic soprattutto su twitch anche quello cambiarlo competitor purtroppo è ottimista mamma mia addirittura no no devi essere ottimista va bene lo raggiungeremo però vedi anche tu hai questa tara perdonami nel senso che tu comunque su questo non stai facendo riferimento all'utenza vero ma stai facendo riferimento ai numeri di twitch bravo ai numeri di twitch e questo è un altro grande errore è un altro grandissimo perché si pensa che i giochi siano popolari perché tante persone lo dicono tante persone ripeto purtroppo anche i miei colleghi giornalisti prendono quello come indice di gradimento cioè quante views su twitch fai beh allora il gioco è popolare allora vorrei spiegarvi un po' di cose su questo argomento punto uno ci sono giochi che su twitch sono inesistenti tipo candy crush nessuno stream ma chiaramente eppure pensa candy crush ha più utenti al giorno che giocano almeno una partita di tre ore che twitch ha di utenti al giorno cioè ci rendiamo conto twitch è una piattaforma internet visibile a tutti quello è un gioco però è così seconda cosa non solo molti giochi sono invisibili a twitch c'è youtube cioè nel senso non ci rendiamo conto che prendere i numeri di twitch che effettivamente sono fatti apposta per avere una classifica è sbagliato perché e quelli youtube non lo sono nel senso che youtube non ha le categorie gioco e non puoi sapere quante views hanno fatto oggi i video di magic rispetto a quante views hanno fatto quelli di arston e quindi tu rimani che questa classifica non la puoi fare però caspita youtube sarà boh 30 volte twitch sì no sicuramente cioè youtube la forza di youtube nella nella chiamiamola categoria dei gamer è sottovalutatissima cioè sembra che sottovalutatissima cioè lo streamer in proporzione in realtà ora adesso ho detto da uno che fa principalmente youtube suona male però sembra una cagata ma su youtube vai a prendere tutta una fetta non hardcore ok è più difficile salire su youtube è un casino e secondo te c'è più gente hardcore o più gente meno hardcore meno hardcore meno hardcore però se io però mi faccio i conti sulle visualizzazioni medie degli youtuber di magic internazionali e quelli di arston il divario continua a esserci sì adesso questo è sul sul fatto che magic anche magic cartaceo rispetto a arston è proprio una super nicchia però ti dico un'altra cosa cioè che se tu prendi altri giochi stragiocati come i vari morpg che sono difficili da streammare che sembra che non esistano in realtà continuano a avere un sacco di seguito bravo in video sì sicuro quindi ripeto abbiamo detto queste cose e torniamo al punto di quando è esploso arston arston è esploso quando è uscito mobile me lo ricordo esattamente il giorno in cui è uscito su mobile arston è esploso perché tutti potevano avere accesso a quel gioco ti facevi la tua partita sull'autobus se andavi alla connessione vabbè avevi perso un game tanto voglio dire puro grinding quindi a meno che non era quello per fare legend non ti incazzavi manco più di tanto e non capisco perché appunto magic tanto sì la board è complicata sì aveva altri progetti sì quello che vi pare però ragazzi è veramente importantissima questa notizia per magic arena importantissima non è che noi combattiamo nel senso siamo come si dice con la fascetta in prima linea per far vincere wizard rispetto a blizzard che tra l'altro condividono un sacco di lettere hard hard però fondamentalmente un po' sì cioè nel senso io spero che magic in un modo o nell'altro sia sempre più giocato da sempre più persone e la possibilità che arrivi su mobile guarda la cosa che un po' mi spaventa è la lunghezza delle partite no quello sai perché non mi spaventa perché se tu prendi un gioco tipo teamfight tactics le partite durano 40 minuti se tu prendi un gioco si va bene se sei forte vinci se poi se perdi subito durano anche 10 minuti se tu prendi fortnite le partite anche mobile o apex mobile comunque una ventina di minuti le tiri fuori e magic arena il tanto odiato best of one ma quanti andranno sul cesso a giocarsi best of one anche se sono degli snobbini del formato ma anche io sarò ben contento di giocarmi sul cesso best of one magic arena ma io mi gioco le best of three ma che me frega però lì poi diventi no ma io non vedo proprio cioè nel senso veramente mobile cambia tutto mobile cambia tutto sono d'accordo i numeri ve li ho dati potete fare tutte le riflessioni che volete ripeto potete darvi tutte le coltellate che volete dicendo ma Red Dead Redemption è un gioco vero è arte mentre Candy Crush fa schifo ragazzi empatizzo con voi sono con voi mettetevi un non lo so una statuina di Akira fatta col pongo vicino a voi e la carezzate quando pensate questa cosa o se no gli tagliate la testa perché vi ho detto la brutta verità però questo è cioè nel senso quello è un gigante enorme ed entrare in quel mercato lì è importantissimo per Wizard of the Coast assolutamente assolutamente è tantissima roba sul perché ci hanno messo così tanto ad arrivare mobile ricordiamoci che prima di Magic Arena avevano fatto l'altro gioco per computer io l'ho scaricato anche io ci ho giocato no no mobile non era mobile era per il computer perché mobile hanno fatto uscire tipo i Magic 2019 duels esatto duels è stato era magic duels magic duels non mi veniva il nome era nato come competitor di airstone proprio aveva il modello airstone che potevi giocare una mitica nel mazzo è stato un fallimento clamoroso clamoroso questa è una bella riflessione e ha ritardato secondo me l'arrivo mobile perché quello doveva essere il prodotto mobile esatto dovremmo farci una bella puntata su questo sui tentativi ricordate questa segnatela perché si si sui tentativi che wizard of the cost ha fatto prima di arrivare a magic arena e prima di capire quindi la cosa fondamentale i giocatori di magic vogliono giocare a magic strano vero cioè prima ci hanno dato duels of the place walker che era un magic però ho capito non tanto magic dove non potevi giocare in risposta certe cose non le potevi fare certe cose si certe altre no e tu venivi frustrato perché avevi una board position che magari risolvevi con una carta in mano la potevi giocare poi ci hanno dato duels con le regole cambiate poi estremamente è arrivato magic arena e guarda un po' ha cambiato tutto perché? perché è magic assolutamente loro hanno cercato in tutti i modi di semplificare il concetto di magic in una maniera sbagliata secondo me che è quella appunto di semplificare proprio il gioco cambiarlo quando invece dovevano semplificare le regole rendere magic più accessibile tramite lo stampo lo stampo si dice boh la stampata come si dice di carte che comunque fossero più o meno più comprensibili tipo mutate companion che nessuno c'ha ancora capito niente si a parte questo però se tu pensi all'inizio di magic arena invece si si il gioco era veramente molto lineare vero e tra l'altro loro sono stati molto attenti nel creare un set di regole quelle standard che ripropongono sempre quindi la gente adesso è alfabetizzata al gioco si è abituata ci saranno sempre quelli senza mani per carità però il gioco è cambiato molto cambiato veramente molto rispetto a non lo so un kamigawa un innistrad e così via dove veramente erano interazioni molto più complicate mi riferisco soprattutto a standard chiaramente perché poi lo diciamo in ogni punta la bellezza di magic che tu giochi quello che ti pare se puoi giocare mazzi che sono come una non lo so una risoluzione di un puzzle difficilissimo che devi scombare facendo 800 mosse tipo eggs lo fai vai in modern e nessuno ti rompe le scatole insomma va bene direi che ne abbiamo dette abbastanza una in verità ne manca lo state of the game ma da giovedì quindi da qualche giorno fa sono presenti i draft con gli uomini con gli umani con i giocatori chiamateli come vi pare insomma bye bye bot no non del tutto non del tutto bot ci sono ancora c'è ancora sì no ecco perché questo è stata una cosa che non mi aspettavo cioè grossa parte della mia utenza a questa notizia proprio non gliene fregava niente anzi dicevano no no ma voglio i draft con i bot ma ci sta è giusto perché il nuovo giocatore in particolare ha bisogno di più tempo per capire il pick cioè noi abbiamo sempre il percepito ah ok io prima di fare un draft mi studio il set mi studio cosa piccare mi studio le sinergie e gli archetipi ma il giocatore medio giocatore medio no prende il draft vediamo la pagina ciao sì tra l'altro però no il giocatore medio di arena facciamo così no non arriva preparato al draft e l'idea di avere un draft che puoi riprendere anche dopo due giorni perché ce l'hai lì è quello che vuole poi io personalmente per me il draft con i bot è il motivo per cui io ho smesso di draftare sinceramente ma sì perché sei un giocatore insomma di magic cartaceo quindi proprio non ti entra in testa come a me io ho giocato già dei draft con gli umani che sono stupendi quindi veramente sono contentissimo di questa cosa tra l'altro ci sarà anche il draft il cube draft con gli umani che era una cosa che pure attendevamo tanto insomma io ripeto io credo anche a livello di programmazione cioè il draft con i bot con appunto la possibilità di attendere di fare quattro pick e poi fare due giorni e fare altri due pick alla fine l'avevano già lì cioè funzionava sì ma infatti l'hanno tenuta andarlo a levare è antieconomico no però sai qual è il mio problema è che magic arena loro la chiamano la blade cioè quando tu dici voglio giocare a qualcosa ti viene questa schermata lì laterale con dieci milioni di tipologie di come cacchio vado a giocare a magic arena questo hanno detto che lo rifaranno perché ci sono gli standard event gli historic event standard event best of one best of three standard best of one standard best of three standard casual best of one casual best of three draft coi bot draft best of three sealed historic historic brawler perfettamente ragione magic comunque l'interfaccia utente secondo me in game è fantastico magic arena sui menu no ma anche perché l'ho già detto un po' di tempo fa il mio problema su magic arena è che tu entri hai una schermata advertising e poi per orientarti davvero nelle modalità ti si apre questa finestra è la molto piccola che non si capisce però hanno detto che l'aggiusteranno quindi siamo no ma quello è una roba cioè nel senso lì ci vogliono veramente degli user experience designer bravi capiscano io sto giocando a Valorant in questo momento fortunello se guardi il menu di Valorant cioè non sembra anche un videogioco c'ha una user experience fantasma veramente è fantasma tutto è dove tu pensi che dovrebbe essere e questa cioè ci sono studi e studi e studi io ho lavorato con UX designer per un sacco di tempo studi su carte quella è una roba che va assolutamente rifatta ma possono copiarla da Legends of Runeterra visto che ci ho citato Valorant sempre stampo Riot Legends of Runeterra non ho giocato a Legends of Runeterra ho visto solo degli stream dove si però la parte di client era eccezionale il gioco poi il gioco non sta andando bene adesso arriva mobile vedremo 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 anche lì appunto Wizard sbrigati esatto anche tu ultimo punto Simo il futuro del competitivo è il suo MPGA perché questo era un punto molto importante perché effettivamente nello state of the game c'è un punto finale in cui si parla di eventi cioè sfide con i giocatori e il nome provvisore abbiamo dato alle esperienze agonistiche che erano durate a breve a requisiti di abilità elevati e offriranno metodi per vincere ricompense significative oltre a oro gemme e buste oltre a oro gemme e buste che cosa vuol dire? forse vogliono dire soldi cioè parliamoci chiaro nel mondo degli e-sport che è cambiato tantissimo durante questi anni questi mesi c'è comunque sia una ecco un grande fermento attorno a quei giochi che direttamente dalla tua cameretta ti riescono a redistribuire parte della ricchezza che loro fanno quindi con dei tornei e tu dalla tua cameretta se vinci un torneo ricevi un bel assegno a casa fortnite è il caso principale in cui tu non devi recarti presso il torneo dal dei tali e essere controllato avere degli admin come in verità si dovrebbe fare scusate se ve lo dico ma puoi giocare ci sono dei tornei online ai quali tu vieni iscritto solo se sei in un certo rank e poi vinci dei soldi questa cosa se il suo arena dovesse arrivare quanto cambierebbe il gioco di magic? secondo me tantissimo tantissimo anche perché prende una fetta di mtgo esatto prende una fetta di mtgo gigantesca sarebbero comunque sia rilancierebbe assolutamente il programma esport poi tra l'altro saranno comunque eventi che sono separati ci dicono da magic esport e da magic pro league quindi potrebbero essere addirittura che si possono organizzare perché loro probabilmente stanno pensando a questa cosa anche per il periodo che stiamo vivendo dicono che l'hanno accelerata per questa cosa esatto con i negozi chiusi magari loro vogliono dare la possibilità a un negozio di fare degli eventi su arena mettere in palio del monte premi prendere le iscrizioni e poi non lo so in qualche modo appunto utilizzare il client per chiaramente da questo punto di vista ripeto cambia tutto secondo me c'è un grande problema che loro devono risolvere cioè il fatto che oggi come oggi 1704 vabbè oggi scusate è domenica non è pre-registrata è tutto in diretta 19 il formato cartaceo quindi con più giocatori al mondo non è standard no questo lo sappiamo tutti quello competitivo probabilmente è modern i gp che fanno più utenza sono quelli forse pioneer è risalito non lo so non lo so sicuramente modern prima diciamo del 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 pioneer ma il pioneer ancora non ho capito se poi loro ci vogliono puntare o nemmeno adesso con tutti i gp chiusi c'è un attimo di insomma tutti stanno ricevendo una botta gigantesca su quelli che erano i piani che magari avevi a dicembre no e quindi se risolvono questo problema comunque che riescono a far salire i numeri di standard riescono a rendere standard sempre più bello un formato che non si risolve subito non lo so comunque possono effettivamente dare tra virgolette un'alternativa un'alternativa importantissima a chi vuole giocare competitivo magic e lo vuole fare online quindi io credo che ora è un po' presto per parlare di questa cosa perché ci sono solo indiscrezioni 11 righe su uno state of the game quando ne vedremo di più ne sapremo di più ne parleremo nei dettagli potremo effettivamente parlarne però ripeto se fanno dei torni anche perché vabbè io qui mi sto dilungando a me piace parlare ci piace parlare di magic ma alla nona puntata l'avete capito che andremmo avanti otto ore c'è un un disegno globale no all'interno del quale i grandi i capitali nonché i grandi player del mercato videoludico in generale e vabbè e-sport è un microscopio rispetto al videoludico però faccio riferimento ad Amazon vogliono prendere anche il controllo dei tornei il Twitch Rivals allora Amazon ha creato una piattaforma che è Twitch per dare luce ai giocatori questi giocatori diventano famosi e quando diventano famosi grazie alla loro utenza i tornei a cui loro partecipano sono tornei seguiti perché Amazon dovrebbe far sì che questi giocatori partecipano a tornei diversi da quelli che organizza lei quindi Amazon fa degli accordi con i publisher tirà fuori i Twitch Rivals e all'interno dei Twitch Rivals chiaramente gestisce tutto lei quindi è come levare tra virgolette anche la parte dei tornei a soggetti terzi perché appunto è un accentratore di ricchezza e questo vabbè potremmo parlare anche di quello sì anche questo 13 puntate esatto un podcast solo su Amazon detto questo se Wizard vuole comunque mantenere il controllo su quello se lo fa in casa all'interno del client la nuova nuova tendenza sarà che poi questo tipo di eventi rimangano all'interno del tuo client di gioco qualunque client di gioco sia ma questo è un'altra cosa importantissima cioè una delle feature richieste da prima che io smettessi di giocare a Airstone alla Blizzard era il torneo dentro al client e Blizzard proprio no se lo fa Wizards sarebbe una bomba cioè se puoi fare il torneo dentro il client che già così è perché poi i qualifier quando arrivi top 1200 torneo è dentro arena tantissima roba figata se riescono a estendere questa cosa tu ne hai fatto anche uno quindi ce lo voglio sì va bene lasciamo perdere se mettono questa cosa che anche l'utente medio può partecipare senza doversi qualificare ma può andare a premio che è il bello del Friday Night Magic ma anche di tornei un pochino più grossi del Friday Night Magic che magari non sei un grinder ma riesci a fare risultato se mettono questa cosa su Magic Arena è una figata se fanno altre cose strane non è più una figata cioè vediamo diciamo che è hype è grande hype ottimo perché comunque è difficile che riprenderemo a fare tornei grossi in cartaceo quindi purtroppo ci vorrà del tempo ci vorrà tanto tempo peccato va bene doveva essere una puntata light mi sembra che non lo è stata 40 minuti avrete capito che quando vi mettete a sentire risposta scombo succede una cosa che non devono succedere è il bello onestamente del nostro dialogo per il quale ti ringrazio un'altra volta che ogni settimana appunto si rinnova e diciamo che ci stimoliamo a vicenda poi c'è la playlist sulla musica è vero playlist ricordatevi tutte le domeniche io e Simo mettiamo 5 canzoni a testa quindi diventerà una playlist che vi accompagnerà per parecchio tempo esatto termini di minutaggio io me la sento tra l'altro perché è figo perché mi sento le canzoni mie che ho scelto di qualche figa questa mi ricordo quando l'ho scelta e poi mi sento anche quelle delle schifose delle giocare che sono insomma ripeto buona musica un giorno faremo un podcast di musica guarda l'evoluzione sarà quella no non lo fate sai con me no che siete pazzi prima faremo un podcast su Airsten no questo sicuramente a me non mi troverà d'accordo va bene va bene dai grazie ancora per aver ascoltato guardato giocate giocate a magic divertitevi le vostre avventure su icoria io ho pubblicato due video e in entrambi ho fatto schifo poi ho fatto un sealed ecco e poi ho fatto un sealed e stavo dicendo non l'ho registrato non l'ho streamato ed è andato bene ma questo è il classico il classico a me succede che non clicco rec a me succede che non clicco rec sai che madonna tra l'altro io ho pubblicato un video l'altro giorno dove sono stato picchiato malamente da Mangucci durante il suo streaming perché l'ho beccato mentre registravo nello streamer event quindi anche io sempre belle figure però sarai contento di avere un video in cui appunto c'è la superstar che salutiamo c'è Andrea di Magic in Italia che è uno dei più forti giocatori del mondo assolutamente sì bello va bene io direi che è davvero tutto e noi ci vediamo domenica prossima come sempre con il decimo episodio di In Risposta Scombo eccezionale tanto siamo andati lontani pazzesco dagli